Anche quando una mattina alzandoti improvvisamente come sempre alle stesse ore ti puoi agire di essere il dominatore E chi è quello? Gantt! Gantt! C'è gente che casca dentro le pavere d'alta alimentazione perché stava presa dal trippo era troppo presa a ballare e mi tocca guardar voi e penso perché siamo una trippo che non balla? Andiamo a suonare la musica che è tecnicamente la musica! Futtana assalita! Ho scelto una vita comoda molto comoda Musica! Musica! Meglio una sera infame che una colazione da paura è arrivato l'appestato! Musica! Musica!